incendio alla ferretti yacht in fumo per milioni di euro scomparsa a sassoli anche pesaro ricorda l'euro parlamentare ancora code al drive tamponi ora i test si faranno anche di domenica ristori covid 14 milioni a sostegno di attività bloccate dalla pandemia buona serata e benvenuti al nostro telegiornale di oggi martedì 11 gennaio apriamo questa edizione mostrandovi le immagini dell'incendio che oggi al confine tra marche e romagna ha visto andare in fiamme uno yacht all'interno dei padiglioni dell'azienda ferretti di cattolica con danni per milioni di euro alle 9 30 di questa mattina una densa nube di fumo si è alzata dalle rive del fiume tavollo mostrandosi nitidamente ai cittadini di cattolica e a quelli delle vicine gabice mare gradara e tavuglia ad andare in fiamme è stato uno yacht all'interno dell'azienda di industria nautica ferretti collocata sul porto canale di cattolica a pochi metri dal ponte di collegamento con gabice mare sul fiume tavollo inermi decine di operai che non hanno potuto far nulla per contenere la violenza delle fiamme accanitesi su un'imbarcazione di 30 metri del valore stimato di 10 milioni di euro praticamente ultimata e pronta alla consegna cinque squadre dei vigili del fuoco si sono adoperati in complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza durate ore le fiamme hanno danneggiato anche altri due yacht in allestimento e diverso materiale dei padiglioni del gruppo ferretti industria leader mondiale nella progettazione costruzione e commercializzazione di yacht e navi da di porto sul posto anche i carabinieri di cattolica e riccione che stanno indagando sulle cause di un rogo che secondo le prime valutazioni parrebbe innescato da un corto circuito elettrico che si è propagato sui natanti costruiti con componenti in legno e vetro resina non ci sono stati feriti ma il personale del 118 ha visitato diversi operai per monitorarne l'esposizione all'inalazione da fumo politici e istituzioni delle marche unite oggi nel dolore nel ricordo per la scomparsa 65 anni di david sassoli matteo ricci e daniele vimini palmiro ucchielli massimo seria alessia morani tommaso della dora e tanti politici del pesarese hanno espresso attraverso i social il proprio cordoglio per lo stimato giornalista divenuto dal 2019 presidente del parlamento europeo il palazzo del comune di pesaro ha oggi deciso di onorarne la memoria esponendo dal proprio balcone la bandiera europea a mezz'asta e vogliamo ricordare david sassoli in questa sua apparizione a pesaro nel gennaio 2020 quando fu intervistato proprio dalla nostra troupe in occasione dell'inaugurazione della sonosfera ai musei civici oggi è un momento molto importante per la città di pesaro ma in realtà per la regione marche ma in realtà per tutta l'italia grazie ai finanziamenti europei siamo riusciti a realizzare questa grandissima sonosfera come la trovata beh una affascinante non solo per la ricerca che c'è dietro per la tecnologia che esprime ma anche per l'essere davvero un prototipo rimovibile a differenza di altre esperienze che sono invece delle stazioni fisse e ha delle potenzialità che sono ancora da esplorare e david sassoli il 14 settembre scorso intervenì dal parlamento europeo anche in occasione del premio del circolo della stampa di pesaro conferito a liliana segre buongiorno a tutti ringrazio il presidente del circolo della stampa di pesaro elio giuliani per il suo invito e tutti i partecipanti a questa importante cerimonia che da oltre 50 anni premia personalità che si sono distinte nel corso degli anni per il loro impegno sociale e civile non posso che essere onorato di congratularmi con la senatrice liliana segre per riconoscimento che la sua città adottiva pesaro le conferisce oggi cara liliana meno di due anni fa la platea del parlamento europeo è rimasta incantata dalle sue parole testimonianza reale dell'orrore che lei e milioni di altri cittadini innocenti hanno vissuto i deputati sono rimasti affascinati dalla sua voce forte nella determinazione di condannare la guerra l'odio l'intolleranza ed ora cambiamo argomento dopo il maxi screening di tamponi per gli studenti dell'epifania oggi ha riaperto il punto drive tamponi di pesaro in via lombardia lo ha fatto con quasi 300 macchine in fila per il monitoraggio di contagi e guarigioni una situazione congestionata che dal 16 gennaio si cercherà di alleviare aprendo il punto tamponi anche di domenica dalla pioggia dell'epifania al sole di questo martedì 11 gennaio cambia poco la sostanza tante macchine in fila anche oggi al centro drive tamponi di via lombardia in tanti prenotati per questo appuntamento che una cartina torna sole di quelli che sono l'andamento dei contagi tanti tante necessità di verifiche attraverso i tamponi si arriva in macchina 80 sono presenti qui nel piazzale del mercato ortofrutticolo altre 200 circa in fila tra via lombardia e via paganini per questa che un rituale che si sviluppa ogni martedì e giovedì pomeriggio dal 16 gennaio si allarga anche alla domenica sto guardando che già tutto il piazzale pieno e ci abbiamo le macchine un chilometro di fila sulla strada principale praticamente e sono circa 280 300 macchine anche oggi che facciamo tutti i prenotati questi tutti i prenotati per questo è il fine percorso di chi ha avuto il virus praticamente vengono qui per fare l'ultimo tampone per essere per ritornare nel mondo dei guariti chiamiamolo così numeri sempre importanti tant'è che si è deciso di aggiungere anche la domenica oltre alle sessioni del martedì e del giovedì esatto non bastiamo non bastano i giorni che facciamo adesso facevamo martedì e giovedì dal 16 inseriamo anche la domenica mattina per fare in modo di fare più tamponi possibili infatti adesso facciamo tre giorni alla settimana altre file sono quelle che si sono create negli ultimi giorni al distretto sanitario di via 11 febbraio perché circa 3.000 pesaresi devono cambiare medico di base in vista di imminenti pensionamenti dei professionisti sanitari per scongiurare il rischio di assembramenti area vasta 1 ha deciso di attivare un apposito servizio telefonico per evitare code e attese comunichiamo quindi ai telespettatori che si può a tal proposito contattare lo 0721 73 22 97 attivo martedì e giovedì dalle 14 alle 17 30 lo 0721 73 22 34 attivo lunedì martedì e giovedì dalle 8 alle 12 30 e lo 0721 19 32 239 attivo lunedì mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 sono 1745 i nuovi casi di contagio nella regione marche di cui 145 in provincia di pesaro urbino numeri che rispetto a ieri vedono calare dal 20 al 12 per cento la percentuale di tamponi positivi con l'incidenza che si attesta ora a 874 casi ogni 100.000 abitanti aumentano di 6 unità i ricoveri nelle marche salendo a quota 310 ma restano invariate le terapie intensive con 57 pazienti indegenza giornata molto pesante dal punto di vista dei decessi con ben 8 morti nelle marche di cui 3 di pesaro e 2 di fano fra i decessi da segnalare anche quella di un 17enne della provincia di macerata affetto da patologie pregresse ed oggi nella regione marche è partita anche la somministrazione della terza dose di vaccino fra i bambini tra i 12 e 15 anni che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi in due giorni si sono prenotati alla vaccinazione più di 3.000 giovanissimi e dal covid passiamo ai ristori per le attività produttive turistiche colpite dalla pandemia che ora possono inoltrare la domanda per i contributi della regione marche che ha stanziato a tal proposito 14 milioni di euro di fondi statali 6 milioni di euro per la capitalizzazione delle piccole imprese 4 milioni e 8 per il turismo sulla neve 2 milioni e 8 per discoteche intrattenimento e organizzazione cerimonie 592 mila euro per parchi tematici e divertimento sono questi i numeri dei ristori covid che la regione marche è pronta a riversare su attività produttive turistiche incamerando oltre 14 milioni di euro di fondi statali con destinazione vincolata a categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza pandemica importanti contributi a fondo perduto che danno una parziale risposta all'invocata richiesta di ristori dell'anno passato alcune categorie erano già state individuate sicuramente sono quelle che hanno avuto un danno non solo vigente ma che anche tutta l'estate hanno patito come le discoteche chiuse la filiera dei matrimoni degli eventi dei pubblici spettacoli i trasporti turistici e i parchi tematici con questi con queste risorse con 2 milioni 8 copriamo questa parte di imprese con 6 milioni di euro invece abbiamo deciso di creare un basket a disposizione del conf dei confidi presenti sulle marche per poter fare un contributo a fondo perduto per ricapitalizzare patrimonializzare le imprese cosa significa che ogni imprenditore che vuole versare capitale sociale per migliorare il proprio rating con le banche quindi poter accedere di nuovo a finanziamenti oppure ripartire dopo le moratorie possa avere un contributo pari al 50 per cento del versato le domande per accedere ai contributi partono dal 17 gennaio con termine 11 febbraio fra i beneficiari anche una categoria fin cui bloccata come quella legata alla ricettività del turismo invernale sulla neve c'è un segmento di nicchia molto importante che riguarda tutta l'industria delle sport invernali della nostra regione perché sono stati stanziati sempre nell'ambito di questi ristori stabiliti dal ministero delle attività produttive anche 4 milioni e mezzo sostanzialmente per tutte le attività connesse all'esercizio delle attività di scissi che quant'altro nel luglio dello scorso anno avevamo individuato i comprensori scistici perché non era stata mai fatta una mappatura di quelle che erano solo tuttora le aree economicamente rilevanti per l'esercizio di attività degli sport invernali lo abbiamo fatto e ora abbiamo stabilito dei criteri di ristoro che andranno soprattutto ai codici Ateco che riguardano le imprese connesse al turismo invernale Ed ora andiamo a parlare di un cantiere bloccato da quasi un anno e che potrebbe non ripartire affatto in questo mese potrebbe infatti arrivare la resa dei conti sull'area dell'ex consorzio agrario nel porto di pesaro vediamo il servizio potrebbe essere arrivata al mese della resa dei conti la telenovela delle cantiere dell'ex consorzio agrario area del porto di pesaro dove nei progetti pianificati dovevano sorgere due torri da 84 appartamenti destinati a modificare radicalmente la fisionomia della porta d'ingresso di pesaro all'adriatico voltando pagina sul rudere del consorzio abbattuto nel novembre del 2020 dopo anni di progressivo decadimento rigenerazione urbana che però si è incagliata 11 mesi fa ovvero quando l'indagine della procura della repubblica su sollecitazione della capitaneria di porto di pesaro sollevò dubbi sulla legittimità dei permessi di costruzione su quell'area di un complesso edilizio non destinato a finalità prettamente portuali permessi che furono rilasciati dal comune di pesaro nelle 2018 lo scorso febbraio così scattato l'incidente probatorio con approfondimenti sull'interpretazione del piano regolatore che hanno messo sotto indagine tre tecnici del progetto indagine che ora sembra arrivata agli atti finali e nel caso dovesse produrre il rinvio a giudizio dei tre indagati si materializzerebbe anche il tramonto definitivo del cantiere con una richiesta di risarcimento danni milionaria di fronte a 84 appartamenti mai realizzati e sui quali c'erano già prenotazioni e impegni d'acquisto valutazioni che stanno facendo il gruppo di investitori israeliani che assieme all'azienda renco detengono la titolarità dell'edificazione una telenovela sulla quale trappelano anche eventuali effetti collaterali perché il gruppo di intervento edilizio era in procinto anche di rilevare l'area dell'ex bramante il largo aldomoro ma ora diventa pressoché inevitabile il no all'impegno di riqualificazione allo stesso modo sembra già sfumato il ventilato impegno dell'arenco all'ex convento delle suore di via guidi dovrà in ballo una riconversione della struttura in una trentina di appartamenti ha deciso di dividere la 62esima stagione concertistica in due parti cioè fra il 2021 e 2022 e ora la rassegna dell'ente concerti parte col suo secondo capitolo il 16 gennaio al teatro sperimentale con l'esibizione del prodigio ventenne giuseppe gibboni che è stato ed è il vincitore del prestigioso premio internazionale paganini 62 edizioni di una prestigiosa stagione che è riconosciuta a livello nazionale come una delle più importanti e sicuramente dal punto di vista storico e dal punto di vista anche dei numeri e dell'importanza a livello regionale e cosa abbiamo previsto per questa stagione sette concerti di altissimo livello iniziamo con giuseppe gibboni che è il vincitore dell'ultima edizione del concorso paganini un concorso atteso dai violinisti di tutto il mondo ma anche dai direttori d'orchestra e dai direttori artistici delle società di concerto la cosa più sensazionale di questo giovane artista che appunto la sua giovane età vent'anni a vent'anni raggiungere un livello così alto dal punto di vista non solo tecnico ma ma anche espressivo è stato riconosciuto è stato apprezzato e premiato anche da sergio mattarella quindi voglio dire e noi siamo stati devo dire con orgoglio tra i primi tra le prime società importanti a coinvolgere gibboni nella stagione concertistica ecco poi la stagione continua continua con tutta una serie di grandi interpreti avremo il ritorno della forma della filarmonica martigiana dopo un periodo di assenza dovuto alla chiusura del teatro orsini abbiamo calibrato un programma proprio ad hoc per il teatro sperimentale che vede la presenza di francesco di rosa un oboista primo oboe dell'orchestra nazionale di santa sicilia di roma e ma è soprattutto un orgoglio italiano nel mondo e per quanto riguarda questo strumento è considerato proprio al top avremo il recupero del concerto di massimo mercelli e col lorenzo bavai un duo che ha una diciamo una tradizione e una storia trentennale è importante non solo per l'alto livello esecutivo ma anche perché soprattutto mercelli per quanto riguarda il flauto quantomeno è uno degli innovatori del repertorio di questo strumento avremo poi nell'occasione delle celebrazioni rossiniane quindi a fine febbraio un duo violoncelle pianoforte anche qui ritorno ecco al discorso del coinvolgimento dei giovani francesco stefanelli al violoncello elia cecino al pianoforte e sono due giovani straordinari poi avremo un artista che stiamo inseguendo veramente da tanti anni non eravamo mai riusciti a scritturarlo a pesaro e marc andrea amlène è un e qui siamo al top proprio del pianismo internazionale quindi i pianisti saranno non solo i pianisti tutti gli amanti del repertorio per pianoforte saranno consolati di una figura così rappresentativa e abbiamo poi un concerto di musica antica che non è frequente nella stagione delle anticoncerti perché il repertorio che normalmente battiamo è un po di natura diversa però di tanto in tanto anche la musica antica viene programmata in questo caso è stato scelto un repertorio molto tipico e molto rappresentativo della cultura italiana ossia il barocco veneziano l'ultimo concerto in programma abbiamo niente meno che stefan milenkovic che è una figura oramai ben nota a pesaro e apprezzatissimo i suoi concerti sono sempre sold out e con enrico bronzi quindi violo in violoncello che ripropongono questa formazione in diciamo in pandan con la prima parte della stagione ma con un repertorio molto molto bello e anche di composizioni estremamente importanti nel repertorio cameristico ma data la particolarità del duo e vengono rarissimamente eseguite e chiudiamo il telegiornale di questa sera parlando di sport infatti più che a tattiche e schemi la vl continua a dover proiettare la sua attenzione su tamponi e quarantene dopo che la società biancorossa ha comunicato il riscontro di un nuovo caso positivo al covid all'interno del gruppo squadra decisivo il prossimo ciclo di test sanitari per capire se sarà praticabile la disputa del match con milano attualmente confermato per domenica alle 12 alla vitrifriguarena il match fu rinviato il 12 gennaio e la vl ricorda ai tifosi che i biglietti acquistati in quell'occasione restano validi anche per domenica coloro che invece volessero esercitare il diritto al rimborso del tagliando potranno farlo esclusivamente nelle giornate di domani e di giovedì 13 gennaio siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma vi voglio ricordare che insomma dopo la pausa dedicata alle festività natalizie questa settimana ritorna il valle foglia e pian del bruscolo magazine al consueto appuntamento del venerdì sera alle ore 20 poi ricordatevi anche le repliche del sabato della domenica del lunedì e martedì un magazine dedicato completamente appunto a valle foglia e a pian del bruscolo con approfondimenti e inchieste quindi non perdetevi la prima puntata la prossima puntata di venerdì alle ore 20 mentre questa sera in prima serata su rossini tv vi portiamo a fare un bel viaggio in marocco con la nostra tv dei viaggi alle ore 21 e 20 e come sempre vi ricordiamo di scaricare la l'applicazione di rossini tv sul vostro cellulare potete farlo con google play oppure sull'app store è veramente molto comoda è gratuita vi permette di vederci in qualsiasi da qualsiasi parte voi siate e permette anche a voi di mandare con molta facilità segnalazioni video foto per appunto segnalare alla nostra redazione le cose che non vanno grazie allora per averci seguito e buon proseguimento su rossini tv